Musica Bentornate! Siamo Margherita e Giulia, le esperte di regali appassionate alle principesse Disney e il mondo Disney Frozen Ciao! Siete alla ricerca del regalo perfetto per l'epifania? Ecco qui le case di Disney Frozen e delle principesse Disney Sono pieni di dolcetti buonissimi e di tante sorprese Con le case zaini di Disney Frozen e delle principesse Disney l'epifania sarà ancora più dolce e più divertente che mai Auguri!